Il maltempo ha rischiato di mettere in crisi la stagione balneare. I bagnini pesaresi hanno però trovato la forza di sistemare le spiagge in tempi record e alle soglie di questo weekend possiamo finalmente pensare di goderci il sole su un lettino in riva al mare. Tra Baia Flaminia, Viale Trieste e Sottomonte le situazioni che si sono verificate sono state differenti. C'è chi ha subito pochi danni e chi invece sta ancora facendo i conti con i disagi causati dall'alluvione. Diciamo che con l'alluvione abbiamo solo lavorato molto noi, siccome non avevamo piantato quasi niente non ci ha fatto danni ma ci ha portato a sporcizia, tronchi, rami, quindi olio di gomito e basta. Allora non possiamo lamentarci visti i danni fatti in altri posti però qualche piccolo danno l'abbiamo ricevuto anche noi perché avevamo finito di montare proprio a ridosso dell'alluvione che ok l'allerta meteo forse non ci aspettavamo un po' nessuno questo disastro. Quindi un po' la torretta, qualche ombrellone, qualche cubo, quello è stato gli ombrelloni di legno però tutte cose che con un po' di manutenzione siamo riusciti a ripristinare bene. La spiaggia naturalmente è diminuita adesso 5 metri abbondanti, adesso si pensa che sabato forse prossima settimana qua da noi il ripascimento arriverà. Dopo la situazione si valuterà appunto quanto l'avranno fatto, quanta spiaggia rimarrà per i prossimi mesi, soprattutto per agosto. Abbiamo avuto dei problemi con l'alluvione, è venuto giù un fiume di fango dal prato dietro in cui ci ha sporcato all'interno diverse cabine, i bagni, i servizi, fortunatamente non è entrata nel locale cucina e in più tutto questo fiume ha divelto tutta la pedana che abbiamo dovuto rimettere da capo da qua su fino al mare ed è bella lunga perché sono 70 metri di pedale. Inoltre abbiamo messo tutti gli ombrelloni fino alla prima fila, abbiamo dovuto togliere 20 metri di ombrelloni e ancora dobbiamo aspettare di pulire la sabbia perché è molto molto bagnata e quindi non si può pulire e aspettiamo il sole, il caldo che l'asciughi e poi possiamo ritornare a essere operativi al 100%. Niente paura per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, la maggior parte dei bagnini pesaresi non aumenterà il costo di ombrelloni, lettini e cibo. I prezzi sono ancora quelli dell'anno scorso, non abbiamo ritenuto opportuno aumentare niente. I prezzi noi abbiamo rispettato quelli dell'anno scorso, quindi non abbiamo fatto nessun aumento è un po' per venire incontro comunque ai nostri clienti. Nonostante qua costi tutto di più portare la merce in spiaggia, proprio per venire un po' incontro a tutte le situazioni che comunque si conoscono bene, quello dell'aumento dei prezzi in generale. Stessa spiaggia, stesso mare. Gli stabilimenti sono già tutti sold out e i pronostici di questa stagione che tarda ad arrivare sembrano però essere più che positivi, con un turismo che dovrebbe iniziare a crescere proprio in questi giorni. Io parlo per noi, diciamo che lavoriamo quasi al 90% con gli stagionali, quindi è sempre il solito andazzo, grazie a Dio riempiamo sempre. Però vedo che anche i miei colleghi che lavorano con gli alberghi mi sembra di captare un bel movimento di richieste, di gente, mi sembra che c'è gente che ha voglia di uscire, di divertirsi, che viene anche in vacanza, anche in weekend, per ora. Nonostante il tempo fino adesso chiaramente ha fatto brutto, aspettiamo di vedere la verifica adesso i primi weekend. Noi avremo oggi i primi arrivi dall'albergo che apre appunto per i turisti in spiaggia. Maggio naturalmente è stato scarso per via del maltempo, però comunque la stagione si prevede movimentata, il caldo sempre si spera arriverà e quindi vedremo. Noi siamo pronti e speriamo bene, le richieste c'erano, ci sono e speriamo che vada tutto bene. Da venerdì, da venerdì sera siamo aperti anche la sera, ce lo spichiamo, vediamo.